Biancavilla ha celebrato ieri il primo anniversario dell'icona della Madonna dell'Eremosina a Roma, un evento che ha rappresentato in pratica il momento finale della grande festa estiva 2017. È stata ricordata così la trasdolazione della sacra icona della Madonna dell'Eremosina a Roma avvenuta dal 3 al 5 settembre 2016 in occasione del Giubileo del Mondo del Volontariato e della canonizzazione di Madre Teresa. La celebrazione eucaristica nella Basilica Biancavillese ieri è stata presieduta dal prevosto parroco Don Agrippino Salerno e animata dai fedeli dell'Associazione Maria Santissima dell'Eremosina e dalla comunità parrocchiale, con all'organo il maestro Vincenzo Benina. Nella sua omeria Don Agrippino ha ricordato con commozione le storiche giornate romane e in particolare la venerazione di Papa Francesco e del Papa Emerito Benedetto. Subito dopo la messa è stato scoperto dal prevosto e dal presidente dell'Associazione Maria Santissima dell'Eremosina il mattone in laterizio utilizzato per la chiusura della Porta Santa a conclusione del grande Giubileo del 2000 ed estratto in occasione della riapertura nel Giubileo straordinario della Misericordia inviato in dono al Santuario Biancavillese dal Cardinale Ancelo Comastri al ciprete della Basilica Papale Vaticana.